Un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info, video a 60 fotogrammi al secondo senza stabilizzazione digitale proviamo lo zoom, vedete che ovviamente si peggiora la qualità dello zoom come avevamo già riscontrato nel video di giorno ma abbiamo una sensazione di fluidità che è molto migliore ho la sensazione che quando riprendiamo 60 fotogrammi al secondo ci sia una sorta di peggioramento della qualità dell'immagine anzi, passatemi, togliermi la sensazione a livello proprio di luce catturata vedo che il telefono fa un po' fatica a catturare più luce e viene fuori un po' più di rumore video magari vi dico una sciocchezza però sono curioso poi di vedere nella recensione e nel video al pc se è effettivamente così confrontandoli tra di loro nel pan vedete che si comporta molto bene e assorbe molto bene i movimenti però ho la sensazione che riprendere 30 fotogrammi al secondo dia qualcosa in più a livello di qualità